Si chiamano itinerari della bellezza e sono una delle operazioni di punta di promozione territoriale e commerciale che Confcommercio ha espresso in questa provincia e che presenta le eccellenze di 12 comuni e la terza città delle marche, Fano, non poteva di certo mancare. È un matrimonio questo tra le parti inseguito da tempo e che ha trovato finalmente il suo coronamento. Ai prossimi eventi, promossi dall'Associazione di Categoria, anche Fano sarà annoverata in questo circuito di luoghi fatto di storia, territorio, tradizioni e cultura. Tutte cose che Fano, candidata Città Nazionale della Cultura, ha in abbondanza. Io credo che veramente la nostra città sia una pietra preziosa, incastonata nel nostro territorio dove arte, cultura, bellezza e denogastronomia si vanno ad intrecciare. Quindi entrando negli itinerari della bellezza verrà sicuramente conosciuta per tutte le proprie peculiarità a livello nazionale e internazionale, essendo comunque proposta in tutte le fiere a 360 gradi. Perché il turista deve essere l'attore principale, deve essere il protagonista, deve essere colui che venendo nella nostra città deve cogliere tutte le emozioni che poi trasferirà sicuramente alle altre persone per poi far conoscere la nostra vallata. Una collaborazione con l'Associazione che si concretizzerà non solo attraverso la promozione fieristica ma attraverso eventi creati su misura per Fano. Abbiamo studiato con l'assessore Lucarelli delle misure ad hoc per la città di Fano intanto con la nuova edizione dell'itinerario archeologico che uscirà il 31 di marzo con la presenza dell'archeologia fanese insomma dal teatro all'arco e poi con un educational tour con agenzie di viaggio italiane che si farà da 27 a 29 di marzo ma quello che poi stiamo potenziando proprio grazie all'inserimento di Fano è l'attività di comunicazione, di marketing utilizzando gli strumenti insomma del web, social, televisione insomma tutti gli strumenti possibili e immaginabili per promuovere adeguatamente la terza città delle marche. Fano cattura solo il 18% di turisti stranieri sulle 583.000 presenze del 2019 e questa strategica operazione si inquadra in un più ampio progetto dell'amministrazione comunale di promozione della città che mira a recuperare anche consensi e fetta di turismo all'estero. Sono i due i filoni che diciamo un po' di portare avanti uno è quello della vallata del Metauro perché è un patrimonio veramente prezioso l'altra è appunto l'asse Fano, Pesaro, Urbino questi due asse vanno gestiti dapprima dal punto di vista istituzionale con una serie di progetti e anche appoggiando questi progetti di associazioni che per noi sono importanti.